Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale con una nuova puntata di StumbleGuys Ho giocato un po' di più in questo periodo quindi spero di non fare troppo schifo Il segreto è veramente... so che parlerò di meno Ma il segreto è parlare poco e concentrarsi senza pensare che stai per morire Dai, questo è abbastanza facile, spero Ecco, io sono troppo brava perché mi schianto... no! No, non toccare, non toccare Ce la posso fare qui ragazzi in realtà... oh no, 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 spostati Dai, sai... oh c'è un altro pollo che mi... mi fa confondere quest'altro pollo No! Mannaggia, dice A lato, a lato, a lato, no, 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 no Quattro già ce l'hanno fatta Con calma, con calma, pagati sempre Sì! Sì! Se riuscissi a vincere la finale... che sogno che sarebbe Come capita? Oh! Come si fa? Come si fa? Oddio, non l'ho mai fatto Evita il laser Sei ferma, dice Ok Primo laser passato, dai, morite voi, così io sono tranquilla Ok Oddio, sto morendo, sto morendo Muoio Muoio Cazzo, 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 cazzo No, no, io faccio una brutta fine se continuo così E me lo sentivo che sarei morta, me lo sentivo Cioè, per una volta che mi qualifico No, raga, no, veramente Ce la farò mai fare in finale, secondo voi? Secondo me, no Devo dire la verità, questo non l'ho mai superato Eccala Cioè, io ci provo a stare tranquilla, però Io ne lo so, no, no Dai, no, no, no Scivolo No, no, non cadere, non cadere No, però, raga, no E' impossibile, è impossibile sto gioco Devo ammettere che io preferisco Ecco Oh Dai, tanto sono solo due qualificati, vero? Ora mi colpisce la palla, sì, dai, vado Perso Una volta ero bravo a fare questo livello Dovete levare, vi dovete levare Ma perché non va? Perché non va? No, io non ho parole Non ho parole, veramente I have no words Voglio capire cosa sta succedendo Sto schifo No, no, Mirko, te lo giuro Dai E questa è fatta E la scivola giù Ma ce la posso fare ancora, forse No, non ce la posso fare Non ci credo, non ci credo Non ci sto credendo Non ci sto credendo Tranquilla, Mirko No, ti prego Eliminato per un secondo Bene, ragazzi Altra partita in cui farò schifo Come sempre Cioè, io porto un video In cui faccio solo schifo Incredibile Ma c'è qualcun altro su YouTube Che lo fa? No Quindi dovete seguirmi per questo Ecco 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 là No, questo dovrebbe essere facile Dai Cioè, ormai Spero nei livelli facili Qua Da quello che ho capito Devo andare a destra Ecco Infatti si buttano tutti a destra Cosa c'è qua? Arrivano anche le palle Siamo delle anguie Siamo quei Quei chewing gum Che mangiavamo una volta Quando eravamo piccoli Allora Ma io trovo che vada lento oggi Ma come mai va lento il pollo? Beh Ecco Ecco Tentiamo di non volare via Trainati da una pala Come l'ho detto Ora mi sto dando una male in realtà Perché mi minaccia Ma come mai ragazzi Mi si sposta sto coso? Oh Oddio 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 Non sono caduta per terra Però Meno male Meno male Dai Ma perché si ferma? No ma è vagato Ma mi si ferma mentre gioco Prima sono arrivata al secondo livello Mirko Però c'erano i laser Mi hanno incastrata Ok proviamo a vedere così Tutti saltano vedete Quindi devo farlo anch'io No Non vuole Mirko dice che non mi devo truffare Quindi truffarmi no Ma saltare sì Non sempre Oh 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 No No Mi sono salvata Non ci credo Mi sono salvata Non ci credo Per una volta che mi salvo Per una volta che mi salvo Devo vincere Questo livello Devo Basta Devo vincere Non sono in posto Adesso devo vincere Dai Sì 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 Ok Zero su sedici Dai Ti prego Vai muoviti No Devo stare in questo Ok 3 su 16 Ok Qualificata Bene Dai Prossimo livello Speriamo che sia il laser Perché comunque Ah Questo mi piace Però quando siamo in pochi È più impossibile vincere Perché C'è chi è più bravo Io parto sempre dopo Per far morire Prima gli altri Capito Ecco Abbiamo capito Vedete Faccio morire Prima gli altri No Sono morta io Porca Eva Cavolo 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 Ce la devo fare Dai Dai Ce l'ho fatto Bene ragazzi Sono in finale Non ci posso credere Ho superato Quindi ho superato La seconda Ecco E qua Morirò Si sapeva Ma muoio Bene Bene Allora No Ok Salvata Salvata Primo laser Salvata No Il laser È facile Mi sto trovata anche qua Devi essere brava nella visuale Nel muovere la visuale Non ci credo 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 Non è facile il laser Come fai a perdere nel laser? Perché vivire l'ansia quando ne metto due vicini E quindi Quando ne vedi due vicini Tu devi aspettare Che si uniscano O che si uniscano Oppure che si allarghino tantissimo In modo che tu salti due volte Dai Ma mi devi La faccio io una partita ragazzi Ma mi sbagli così? Oddio Io mi dissocio dal suo nome Ah ma tu hai il pollo Ma non vinci perché devi cambiare skin Devi prendere quel cappellino Con gli occhelli da sole Perché tu in questo momento sei al mare Quindi di conseguenza devi scegliere E poi non puoi giocare con la cover Adesso faccio difficoltà Ma è scomodo Mannaggia Devo insegnarle tutto Allora andiamo col nostro pollo Se adesso anche il pollo vince Allora sono io il problema Oh 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 Però vedi che è il pollo Il pollo porta sfiga Perché il pollo Ops Vedi vedi È un pollo Io sul Clash Royale Per prendere in giro gli altri Ti faccio l'emoticon del pollo Ah veramente Certo No già Quello che fai Ah Di lato Certo Allora No niente sei tu che sei scarso col pollo Vero Il pollo vedi che fa schifo Dai Vero che non vai di ricursore No va va Siamo noi che sono scarsi Beh però sei bravo Ma bravo cosa Già in sei sono stati qualificati Quello lì è fermo Pieno di palle qua Ho perso Non hai perso Muoviti Muoviti Ti devi lanciare Ti devi lanciare Sì Oh l'ultimo Ah guarda Vedi avanti A me questo libro non piace Perché ci sono troppe palle Che ti prendono Eh vabbè Però invece su Fall Guys No ce ne sono di meno Però è meglio quello che invece con della neve Con della neve scivoli troppo Ma perché sai perché non mi piace Perché è primo di abilità Non devi essere bravo Devi avere il culo che una palla non ti prenda Allora qui aspettiamo gli altri Puoi andare gli altri Guardali guardali Ok questi sono quasi spessi Guarda secondo me è quello Hai visto troppo Eh vabbè Porco pollo Bravo sei bravissimo mi Allora devono salire in otto Guarda che sono tutti fermi con l'ansia Vai 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 quello con la cresta Eccolo Poi c'è un contempo vero Non mi sto pagando Dai 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 uno che vada Uno che vada Dai abbiate il coraggio Ok quello non era quindi Dai abbiate il coraggio Non ci va nessun Oh però vedi Sei sacrificato Uno si deve sacrificare Per questo è proprio Uno deve sacrificarsi Quello Quali sono tutti i pezzi Che rimangono nell'avventaria Ma scusami Questo è scemo però Sei contento Perché lo fa Eh non lo so Sarà un'altra Alice Ah No Poi non sono bravo Ve lo dico già Ve lo dico già Non sono bravo Quindi preparate già la sconfitta Perché Cioè questa è la finale Ne rimane solo uno Ah poi devi Devi C'è un modo Per spezzare i cubetti Cioè Se tu guardi la gente Tirano dei pugni Si tirano a pallino No io non so tirarli Pugni Eh allora è quello che perdiamo No è per quello che perdiamo Ho visto una finale Oh madre Ecco tipo qua Qua devo stare fermo Ok Ho pure morto Non so perché si butta Vi tirano un pugno qua Vi tirano un pugno qua Ma come faccio a tirare i pugni Tirano un pugno a volte Nelle Quelle Ecco bravissimo Oddio Oddio rimaniamo in due Oddio Virgo Virgo Devi salire sopra uno Eravamo in due Mannaggia Eravamo in due Eravamo in due Eh vabbè Comunque sono arrivato secondo Ragazzi direi che mi ha umiliata Sufficientemente E che quindi questa partita Può finire qui Per altri video In cui volete perdere E sapere bene come perdere Seguitemi assolutamente Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Lasciate un like E noi ci vediamo come sempre Nel prossimo video Ciao ragazzi Se il video ti è piaciuto Lascia un commento E iscriviti al canale La video giornata E la coppia che scoppia Sono come noi La vita di coppia Vissuta da eroi La coppia che scoppia È un'esplosione Virgo ed Alice Dentro il nostro cuore